Buongiorno a tutti dal Rifugio Padova, Domegge, Val di Toro, un augurio a Alcai per i suoi 150 anni di cammino, sempre splendente e sempre all'avanguardia. Oggi per gli alpinisti che passeranno stiamo preparando delle costicine, costicine al forno con il charie, strudel, un pasticcio con i porcini, vi do una news, finalmente quest'estate stanno buttando di nuovo i funghi che non ci sono stati.